C'è una mia indicazione molto precisa rivolta all'assessorato alle infrastrutture ma in particolare all'ingegner Ramaglia che è amministratore unico, come sapete, di ANM Metronapoli. Io ho detto che se permane, questo già gli ho scritto diverse settimane fa, quindi andiamo avanti su questa strada, se permane l'inerzia che io considero colpevole di Metro Campania e quindi la Regione sulla stazione di Scampia, noi siamo pronti a farci carico noi insieme ai ragazzi che hanno presentato un progetto, gli stessi che fecero i graffiti e le opere di disegno sul ponte di Chiaiano della metropolitana. Quindi faremo una partnership tra comune e associazioni in modo da poter realizzare al meglio quella stazione perché così non può rimanere, quindi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane se non si sblocca la questione interveniamo noi.